Dopo una lunga attese di intensi preparativi, finalmente l'87esima donata nazionale degli alpini è entrata nel vivo e sta coinvolgendo tutta la comunità. La città ospita gli alpini e gli alpini ricambiano questa ospitalità con gli interessi. È in corso di svolgimento qui allo stadio Bottecchia, esaurito in ogni ordine di posti, addirittura anche la pista del velodromo è occupata dagli spettatori, è in corso il lancio dei paracadutisti, l'azzurro del cielo è una cornice ideale per accogliere questi splendidi paracadutisti tricolori, è la dimostrazione di come lo spirito alpino sta coinvolgendo la città, è uno spirito fatto di gioia, di allegria, ma anche di impegno civile, di amor di patria, che sono tutte qualità e stati d'animo di cui abbiamo bisogno. L'invito a tutti è quello di vivere intensamente questi momenti e di farsi travolgere dall'energia e dall'entusiasmo che gli alpini stanno portando in città. Grazie.